Cosa diventa un remaggio quando è triste? Un remodio! Mi raccomando, è quasi Natale, siate tutti più buoni! Io sarò l'eccezione che conferma la regola! Intervista! Babbo Natale, qual è la tua tecnologia di stampa preferita? Ho 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 set! Gli elfi, invece, stampano in digitale! A Natale faccio sempre il tacchino, ho un'imitazione terribile! Se quest'anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali, non preoccupatevi, ditemi solo dove abitate che passo da solo io! Buon anno e buon Natale! Più pil per tutti! Durante le festività di Natale ci sono dei valori più importanti che sono la glicemia, il colesterolo... E comunque a Natale date valore alle cose più importanti! Non è vero, non è vero così! Io ho la glicemia, sicuramente! Io il colesterolo! Io ho il più difficile da pronunciare, i trigliceridi! Che medicina usa Babbo Natale se una delle sue renne cade a gambe all'aria? Il Volta Ren! Buon Natale a ogni sogno che vorrei realizzare! E comunque, tranne la Debbie, a Natale sono tutti più buoni! E' il prima e il dopo che preoccupa! E' il dopo! Non me lo ricordo più! E' vero! Ok, ci sono, ci sono! Dai, bravo, non mi guardare! Durante le festività... Durante le festività di Natale ci sono... Durante le festività di Natale ci sono dei valori più importanti che sono la glicemia, il colesterolo... E i trigliceridi... Salvate i tacchini! E poi Natale continua a stoffare, stoffa!